ciao ragazzi benvenuti a Q&A siamo qui con Cristian ciao ragazzi ciao Luca ciao Cristian allora dopo quanti appuntamenti posso portare una ragazza a casa mia ok allora diciamo che non c'è un contatore che gira ok e dopo tot appuntamenti la ragazza finirà a casa tua cioè non funziona così le persone vorrebbero no queste sicurezze queste garanzie queste cose che in realtà non esistono la ragazza può venire a casa tua al primo appuntamento così come dopo un mese dipende ok siamo nella sfera delle relazioni sentimentali quindi tutto è molto fluido è molto più probabile che venga a casa tua dopo un mese che dopo due ore mi sembra abbastanza evidente perché si deve creare una serie si deve creare confidenza ci deve essere empatia ci deve essere interesse ci deve essere attrazione eccetera 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 quindi non mi concentrerei sul numero di appuntamenti bensì sulle componenti da mettere all'interno di questa conoscenza relazione frequentazione perché per far sì che poi la ragazza di conseguenza venga a casa mia ok quindi questo è quello che io penso e bisogna iniziare a lavorare sul processo anziché sul risultato perché il risultato è figlio di un processo se io il processo non lo voglio guardare perché voglio il tutto e subito 99 per cento persone non arriva risultato ok quindi imparate a capire cosa serve per portare a casa una ragazza e lavorate su quegli elementi su quelle componenti altrimenti la ragazza non vi è non verrà a casa vostra ok saluto grazie